Ladies and gentlemen, vi presento Modula, uno strumento da scrittura particolare sviluppato recentemente con pininfarina segno. Modula ha un corpo di alluminio realizzato al centro di lavoro, definito da questi sei moduli uguali, separati da delle gole la cui inclinazione riprende quella dei puntali. Svitando il cappuccio abbiamo una punta in graphics, quindi una mina eterna, una ballpoint e il modulo clip. Grazie alla sua modularità modula può essere composta come riteniamo più utile. Per esempio possiamo utilizzare davanti la punta di graphics oppure svitarla e posizionarla posteriormente dando più importanza alla ballpoint. Possiamo anche rimuovere la clip se per esempio la penna viene trasportata in borsa piuttosto che nel taschino della giacca. Grazie alla sua modularità è possibile assemblare delle versioni con i moduli di colori alternati creando delle varianti che possono essere scambiate con amici o persone a voi vicine. Ecco che cosa si può fare utilizzando i moduli di tre modula. Marito, moglie, figlio, marito, moglie, amante. Decidete voi. Ultima informazione ma non meno importante. Il packaging di modula è realizzato con materiali completamente riciclabili. Abbiamo una cover in cartoncino e il contenitore in multistrato verniciato.